Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Sabrina Salerno ha recentemente condiviso con i suoi fan un momento molto difficile della sua vita, la scoperta di un tumore maligno al seno, rilevato durante una mammografia di routine nell'estate scorsa. Dopo mesi di ansia e paura, la showgirl si è sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere il tumore. Attraverso i social, Sabrina ha aggiornato i suoi follower sulla buona riuscita dell'operazione e sulla sua ripresa. Documentando il ritorno alla normalità, seppur con difficoltà. In un post, ha confessato di cercare faticosamente di riprendere la vita di tutti i giorni, mostrando una foto in palestra dove ha ripreso ad allenarsi, anche se con qualche dolore. Sabrina ha inoltre sottolineato l'importanza della prevenzione, grazie alla quale è riuscita a individuare in tempo il tumore. Quanto al futuro, la cantante ha dichiarato di non sapere ancora se dovrà sottoporsi a chemioterapia preventiva, mantenendo un dialogo aperto con i suoi sostenitori.